Ciao, io sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Benvenuti in questo video. Come saprete, qualche mese fa sono passato a Wayland con Hyperland. Adesso mi è stato richiesto di fare un video sull'installazione e configurazione di Hyperland, quindi eccoci volentieri qua. Avrei fatto questo video comunque prima o poi. Allora, io vi mostrerò Hyperland su macchina virtuale, cosa che sicuramente non è l'ideale, non lo è affatto, ma noi cerchiamo di concentrarci su questo mini tutorial non badando ai problemi che dà la macchina virtuale. Io utilizzerò Quemu, utilizzerò Virt Manager, eccolo qua. Magari vi mostro le accortezze che bisogna prendere per far funzionare Hyperland un po' al meglio. Andiamo su video e selezioniamo il driver virtio e selezioniamo anche l'accelerazione 3D. Possiamo applicare già queste modifiche, poi andiamo su schermo, come tipo mettiamo nessuno al posto di indirizzo, poi selezioniamo OpenGL. Va bene così. Quindi, applichiamo, possiamo far partire la nostra macchina virtuale. Cosa ho preparato su questa macchina virtuale? Una installazione minimale di Arch Linux. Credo che ho solo installato due pacchetti, uno è sudo e l'altro è vim. Va bene, metto in pausa e ci vediamo dopo. Eccoci qua, ho effettuato il login. Adesso continuiamo con gli accorgimenti di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di due variabili di ambiente. Io li andrei a inserire sul file .bush-profile. Sicuramente non è l'unica soluzione. Noi abbiamo solo bisogno di impostare due variabili di ambiente. Allora vado con export e poi scriviamo WLR No Hardware Cursors Uguale 1 Export WLR Renderer Allow Software Uguale 1 Ripeto, queste operazioni sono valide solo per la macchina virtuale. Se lo installate su una macchina reale, sul vostro pc, non c'è alcun problema. Non avete bisogno di queste due variabili. Ok, fatto. Effettuiamo il logout. Di nuovo il login. E a questo punto abbiamo queste due variabili. Ok, vado a installare il pacchetto Hyperland, che si porterà con sé tutte le sue dipendenze, tra cui ovviamente anche Wayland. Quindi, sudo pacman, meno S maiuscola, Hyperland. Ok. Sta scaricando i pacchetti, io metto il video in pausa e ci rivedremo dopo. Ok, ha finito di installare. Adesso possiamo avviare Hyperland per la prima volta, cosa che ci verrà a creare un file di configurazione di default. Adesso io lo avvierò con il comando Hyperland, H maiuscola. Sappiate che un display manager, un login manager, non è ufficialmente supportato. Quindi, se volete utilizzarlo con un login manager, andate sul sito ufficiale, consultate la documentazione e vedete quale login manager si comporta meglio. Credo che sia sddm. Va bene, noi lo avvieremo da console con il comando Hyperland. Le variabili di ambiente per la macchina virtuale già ce l'abbiamo. Quindi, avviamo. Ed ecco come si presenta Hyperland per la prima volta. Abbiamo una barra gialla in alto che ci dà alcune informazioni. Per esempio, vediamo che la combinazione di tasti Super più Q lancerà l'emulatore di terminale Kitty, che però non abbiamo ancora installato. La combinazione di tasti Super più M uscirà invece da Hyperland. Praticamente l'unica cosa che possiamo fare è uscire da Hyperland. Ora, non fate caso alla risoluzione che lascerò così per evitare altri problemi. Potrei cambiarla, ma avrei purtroppo altri problemi. Usciamo allora da Hyperland. Perfetto. E apriamo il file di configurazione che ci è stato creato sulla cartella .config.com Hyper.hyperland.conf Ok, così si presenta il file di configurazione di default. Io in realtà ho cambiato il tasto modificatore perché non posso avere un tasto modificatore uguale sulla macchina virtuale e sul PC che ospita questa macchina virtuale. Andrebbero in conflitto. Poi, vediamo che abbiamo una riga auto-generated uguale 1. Questa la possiamo rimuovere. Al momento la lasciamo. E' quella barra gialla che vediamo in alto. Poi abbiamo monitor. Qua potete configurare il vostro o i vostri monitor. Prima della virgola è possibile mettere il nome. Attenzione, non è obbligatorio. Possiamo lasciare tutto così per com'è. Io infatti lo lascerò così. A posto di Preferred dovreste mettere la risoluzione se volete. Io qua su macchina virtuale ho cambiato proprio in questo modo la risoluzione ma la cosa mi ha comportato un sacco di problemi. Poi, qua al posto di questo auto potete mettere la posizione. Ovviamente di solito si mette 0x0 altrimenti andate a spostare la posizione dello schermo. Il successivo auto sarebbe, se volete, scalato lo schermo. Con 1 mettete che non c'è scalatura. Va bene. Andiamo avanti. Come vedete abbiamo qua tre variabili. Una per il terminale, una per il file manager e una per il lanciatore di applicazioni. Se volete utilizzare queste applicazioni, ovvero Kitty, Dolphin e Wofy, lasciate tutto così com'è, io ve le cambio tanto per e andremo ad installare poi queste applicazioni. Allora, come emulatore di terminale io andrò ad utilizzare Alacrity, come file manager boh facciamo tuner, come lanciatore bmenu, bmenu-run. Ovvio che questi tre programmi ancora li dobbiamo andare ad installare. Continuiamo. Dobbiamo impostare il layout della tastiera. Vedete? A posto di US voi andrete a mettere i T per la tastiera italiana. Io vado con la tastiera tedesca. Proseguiamo. Vediamo che abbiamo qua delle impostazioni in generale, ad esempio il gaps, lo spazio tra una finestra e l'altra. Io direi di lasciare le cose così come sono. Possiamo impostare anche la grandezza del bordo, lo spessore del bordo di ogni finestra, che al momento è due. E poi abbiamo i colori. Questa cosa la vedremo in seguito. Poi c'è il layout che per default è dwindle. Lasciamo questo al momento, poi vi mostrerò l'altro layout, quello che piace a me. Decorazioni. Ecco, possiamo scegliere la rotondità dei bordi, al momento è dieci. Possiamo scegliere se avere l'effetto blur o meno. Animazioni, che sono abilitate per default. Se volete potete anche disabilitarle, ma diciamo che chi usa Hyperland quasi sempre è proprio per le animazioni. Va bene. Altra cosa importante, ecco qua. Mine mode. Che di default è il tasto super. Se volete cambiare il tasto modificatore, fatelo qua. Io ho messo Alt apposta per non avere conflitti con il mio PC. Va bene. Poi, con la combinazione di tasti super o tasto modificatore più Q, andremo ad aprire l'emulatore di terminale. Questa combinazione non mi piace affatto. Io metterò Return. Che sarebbe il tasto invio. Quindi, con super più invio, lanceremo il terminale. La Q invece la metto qua. Quindi, con super più Q, andremo a chiudere una finestra. Il resto, al momento, lo possiamo lasciare così. Va bene. Quindi, salvo. E andiamo ad installare. Abbiamo detto Alacriti. Abbiamo un pacchetto benmenu-weyland. Installiamo questo. Cos'altro? Tuner. Lasciatemi installare anche un browser web. Firefox. Cos'altro? Hype Paper. Che ci servirà per il wallpaper, per lo sfondo. Ci sono sicuramente diverse soluzioni. Io, ad esempio, non lo uso nella mia configurazione. Ma qua ve lo mostrerò. Cos'altro? Possiamo installare. un pannello. Io, ad esempio, utilizzo Weibar. Anche qua ci saranno diverse opzioni. Weibar. Ok. Direi che può bastare così. Quindi. Metto in video in pausa. E ci rivedremo dopo. Va bene. Riavviamo Hyperland. A questo punto proviamo ad aprire l'emulatore di terminale. Alacriti. Eccolo qua. Adesso comincia a darci fastidio quella barra gialla. Quindi. Aspettate che ingrandisco un po'. Quindi. Andiamo sul file .config. Slash Hyperland. Hyperland. E rimuoviamo questa riga. Oppure la commentiamo. Che fa lo stesso. Adesso, se salviamo, le modifiche verranno applicate immediatamente. Quindi, ecco che è sparita la barra gialla. Perfetto. Vedete che il puntatore si muove in modo strano. Dipende dalla macchina virtuale. Non fa nulla. Va bene. Ok. Cosa facciamo? Direi di intanto vedere le combinazioni di tasti che abbiamo di default. Alcune le abbiamo già cambiate. Per esempio, per aprire il file manager abbiamo Super più E. Proviamo. Scusate. Super più E. Ok. Come vedete si è aperto Tuner. Super più Q per chiudere. Perfetto. Andrei ad inserire un'altra combinazione di tasti per il browser. Facciamo, non lo so, B. Mi pare che la B ancora non sia stata utilizzata per qualcos'altro. B sta per browser. Ovviamente, quindi qua scrivo Firefox. Oppure, se volete, andate ad impostare un'altra variabile. Ma va benissimo così. Salviamo. Provo con Super più B. Magari ci vuole... Ecco qua. Ecco che si sta aprendo Firefox. Ok. Chiudo Firefox. Dopodiché, vedo che per lanciare Wofi, Bmenu o quel che volete voi, abbiamo Super più R. Non mi piace. Sostituisco con Space. Ok. Salviamo. Lancio Bmenu. Come vedete, è quella barra sottilissima in alto che è proprio come piace a me. perché va a sovrapporsi al pannello senza rubare spazio allo schermo. Se a voi piace di più Wofi, utilizzate Wofi oppure quel che volete. Ok. Va bene. Direi che è tempo di farvi vedere come cambiare lo sfondo. Io già ne ho scaricato uno. Intanto chiudiamo questo file e creiamo il file sulla cartella config hyper, sempre quella, hyperpaper.conf. dobbiamo scrivere due righe. La prima è preload uguale e poi il percorso del file dello sfondo, su cui si trova lo sfondo, che lasciatemi vedere. Ok. Ce l'ho su immagini. Quindi, immagini, poi, nemmeno riesco a vedere, 5m5k9.png. Ok. E poi scriviamo wallpaper uguale virgola e di nuovo questo. Aspettate che questa volta lo copio. E incollo. Ok. Fatto. Dopodiché, ritorniamo sul nostro caro file di configurazione. Questa terminale lo posso chiudere. Ecco, abbiamo già una riga per le applicazioni che vogliamo lanciare all'avvio di Hyperland. Verranno eseguite solo una volta al lancio di Hyperland. E abbiamo, guardate un po', Webar, Hyperpaper e Firefox. Direi di lasciare tutto così va benissimo. E poi voi potete aggiungere tutto quello che volete. Ok. Salvo. Ovviamente non è una cosa che vedremo adesso, perché non abbiamo lanciato Hyperland. ma se usciamo da Hyperland e rientriamo, vedremo che funziona. Quindi, la combinazione per uscire da Hyperland era Super più M. Riavvio Hyperland. E come vedete, lo sfondo è cambiato. Si è aperto Firefox e in alto abbiamo la barra, il pannello Webar. Adesso non vi farò vedere come configurare Webar. Voi andate sul sito di Webar, vedete un po' gli esempi che sono presenti. Sceglietene uno, quello che più vi piace o quello che più si avvicina al risultato che volete ottenere. Un po' di considerazioni, un po' di consigli generali, che valgono non solo per Hyperland, ma per qualunque compositor o window manager. Voi scegliete uno sfondo che si addice ai colori che volete. Scegliete quindi uno schema di colori che vi piace. Il mio, ad esempio, è Groovebox. E con Groovebox ho fatto tutto. I colori sul terminale, i colori sul pannello e anche su Hyperland. Avevamo visto che c'erano due righe per i colori. Eccolo qua. Il colore della finestra attiva e il colore della finestra non attiva. Va bene, spero che il video vi sia piaciuto. Ah, scusate. Non abbiamo trattato per nulla le regole. È possibile, infatti, scrivere una regola per una determinata applicazione. E quindi, che ne so, fare andare quell'applicazione su un determinato workspace. Abbiamo dieci spazi di lavoro al momento. È possibile, non so, dare la regola a Hyperland per creare una finestra sempre in modalità floating. Tutte le regole che volete. Va bene. Adesso sì che abbiamo finito. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero di aver accontentato un mio iscritto con questo video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Clarintux.